Ciao, sono Riccardo Bertuzzo della provincia di Vicenza. Ho conosciuto l'igenesi, si può dire, un po' per caso. Ho cominciato grazie a un amico e io andavo delle gare di motocross avendo degli amici che gareggiano. Per passione mia ho cominciato a fare qualche massaggio finché questo amico conosceva l'igenesi. Mi ha detto, ma perché non provi a ampliare le tue conoscenze? Da lì sono partito, ho fatto il percorso sportivo. Dal percorso sportivo ho aggiunto un plus. Oggi ho fatto l'esame, è andato molto bene. Siamo usciti finalmente con una cosa concreta, un obiettivo concreto. Faccio anche l'istruttore fitness, quindi abbino le due cose. E da qui adesso si aprirà tutto un percorso di ampliamento sia di conoscenze, vari livelli, varie manovre, tutto quello che può aiutare una persona a 360 gradi. Con la scuola mi sono trovato veramente molto bene, sia con i docenti e con la direttrice Katia, sempre disponibile. Anche messaggi, anche ad orari strani. Quando uno dice, ma se sarà impegnato, invece trova le forze per rispondere a tutti. Questa è una cosa che mi ha stupito molto della direttrice e di tutto il suo staff. Adesso si proseguirà questa avventura sia nel mondo lavorativo, adesso c'è il concreto di potersi espandere, farsi conoscere, farmi conoscere in giro da tutte le persone e portare dei miei obiettivi miei, ma soprattutto con le persone che si affiliano a me, come nel mondo del motocross, del campionato Veneto, Triveneto e italiano, che già seguo. Ho visto dei risultati nell'anno 2023 con vari podi, vari riconoscimenti fatti sia dal campionato Triveneto Xen, sia dal campionato FMI Nord-Est, portando alla vittoria anche dei piloti, questa è stata la cosa più emozionante, vedere dei piloti che vincono il campionato e tu li hai trattati sia a livello di manipolazione col massaggio, ma anche a livello diciamo un po' psicosomatico, quindi andare a lavorare su quel campo che c'è anche dietro oltre la manipolazione, che deve saper fare uno, ad esempio nel mio settore, che fa sia l'istruttore fitness e personal trainer, sia massaggiatore olistico sportivo, portando un livello elevato.